Preghiera rivolta agli angeli per la protezione della casa e della nostra famiglia. Supporta il nostro lavoro di divulgazione cristiana mettendo mi piace a questa preghiera video, iscriviti al canale, attiva la campanellina delle notifiche e lascia un commento sotto il video. Fratelli e sorelle preghiamo, ti offre una nuova preghiera semplice ed efficace per proteggere la tua casa e i componenti della tua famiglia che vi abitano. Si tratta di una preghiera che ci aiuta a portare Cristo nelle nostre case. In questo modo la sua presenza sarà in grado di custodire la serenità della nostra famiglia. Preghiamo insieme. Ti preghiamo Signore, visita questa casa e rispingi da essa tutte le insidie del nemico. Possano i tuoi santi angeli venire ad abitarla perché in essa reni la pace e la tua benedizione rimanga su di noi per sempre. La preghiera video di oggi dedicata alla protezione della tua casa e della tua famiglia termina qui. Ti invitiamo, se ancora non l'hai fatto, a mettere mi piace a questa preghiera video, iscriviti al canale, attiva la campanellina delle notifiche e lascia il tuo commento sotto il video.